Era importante muovere la classifica e soprattutto poi quando magari ci sono delle pause perché così almeno ti permette di lavorare con più serenità e con più entusiasmo e devo dire che è arrivato meritatamente dove sicuramente si è fatto molto meglio nel primo tempo dove tatticamente siamo stati molto bravi ad arginare le qualità di questa squadra dopo nel secondo un po' meno ma credo anche che nel secondo tempo poi abbiamo avuto le qualità di questa squadra. Le occasioni più clamorose magari per far gol quindi merito ai ragazzi per la prestazione. Il campionato scorso ha dimostrato che qualsiasi squadra venuta a giocare qui ha avuto delle difficoltà e ripeto il risultato importante ma anche per come è venuto con personalità con coraggio andando a prendere la loro metà campo e è normale che poi magari nelle altre partite si è vero che abbiamo commesso degli errori degli episodi che magari hanno condivido. Abbiamo condizionato le partite al risultato finale e mi riferisco alla partita con il Mina però devo dire che questi ragazzi hanno dimostrato tanti aspetti positivi su cui lavorare sia sotto l'aspetto tattico sia sotto l'aspetto fisico. Visto e considerato che comunque loro avevano giocato sabato quindi due giorni più di recupero o di preparazione di partita sono importanti soprattutto poi non avendo alternative per infortuni perché non avendo Gabbedini, non avendo Ernesto, Torregrossa magari anche la possibilità di fare dei cambi per cercare magari di non far abbassare la squadra. Però questo devo dire non è stato un alibi per noi anzi è stato un motivo per giocare ancora più la squadra e quindi i meriti e i complimenti ai ragazzi li vanno fatti soprattutto per questo. Peccato per i nazionali è chiaro che essendoci 6-7 nazionali da una parte dimostra il fatto che questa squadra ha delle qualità dall'altra parte però non ti permette di poter lavorare con questi ragazzi poiché sono impegnati con i nazionali. E ahimè poi a livello fisico questo lo si nota in campo perché non avendo fatto la preparazione, non avendo fatto allenamenti e avendo solo giocato magari qualche difficoltà la possono avere però soccombono con la determinazione, con l'attaccamento alla maglia a tante magari situazioni di difficoltà e oggi ripeto sono stati molto bravi. Grazie.